Tu hai involucrato solo per questo? Vito, tu eri un senso. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Forti ammazzi. Allora... Sei pronto per il tuo destino? La medicina... ...funziona. La medicina... ...funziona. ... ... ... Sì. Luis all'Ambra. Devo trovarlo. Le impronte di Luis. Deve essere andato da questa parte. Sì. 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 Cerebri. Cerebras. 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 Corazón. Corazón. Cogedla. Cogedla. Cuatadla. Cuatadla. Andiamo giù. Che cos'è? Luis conosce bene questo posto. Sì. È un alveare. Non mi sembra affatto un buon segno. Non va. Buonanà! Non si apre. Io lì dentro non mi tuffo. Non mi sembra. Non mi sembra. Non mi sembra. Non mi sembra. Congratulazione straniera. Ci sono tante altre cosette interessanti, mia cara. Non mi sembra. Non mi sembra. Non mi sembra. Colpo secco. Non mi sembra. Così risolvo il problema dell'acqua. Non mi sembra. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È bello grosso. Chissà per quanto tempo avrà vissuto qui sotto. No! Grazie per le indicazioni, Luis. No! 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 Grazie a tutti. 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 Ti sei proprio innamorato di me. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , puoi scappare. a tutti. 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 mi spiace. a tutti. 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 come fa? a tutti. 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 a tutti.